La due giorni del Giro d'Italia in Abruzzo si chiude con il successo straordinario di Peter Sagan sul traguardo di Tortoretolido a termine di una frazione bellissima piena di emozioni che restituisce il senso dell'impresa ciclistica delle tre volte campione del mondo che regola tutti i compagni di fuga del mattino, resiste a Swift prima e Peio Bilbao poi staccando l'inglese sulle rampe vibratiane e senza farsi riprendere dallo spagnolo della Bahrain McLaren, quando l'iberico sembrava poter essere l'insidia principale per il successo di tappa. Ma anche il duello di due giorni prima tra Guerreiro e Castroviejo in cima all'Aremonia in una giornata come quella di ieri condizionata dal tempo incerto, restituiscono l'immagine di una regione che benché collocata non nel nord delle grandi catene montuose come di consueto può condizionare la classifica generale, dalla quale rischia di uscire Jacob Fulsang probabilmente il rivale più accreditato di un Vincenzo Nibali finora non proprio in forma smagliante ma che nella terza settimana potrà contare sull'aiuto di Giulio Ciccone. L'altro abruzzese Dario Cataldo ci ha provato ieri prendendo la ruota di quella che poi sarebbe stata l'azione offensiva decisiva ma ha dovuto alzare bandiera bianca negli ultimi chilometri con Villella, compagno di squadra alla Movistar che ha tenuto duro solo un po' di più di Dario prima di desistere. I muri abruzzesi, non lunghissimi ma tremendi dal punto di vista della pendenza, si sono fatti sentire sulle gambe di un gruppo falcidiato dai forfè di Mitchelton, Scott e Giambovisma. Se per i primi la positività di Samo Yates e quella di sei membri dello staff e quattro della squadra poteva giustificare il ritiro in massa, l'unica positività di Kreuzweg è bastata per dire addio ai gialloneri, freschi vincitori del Tour de France con Pogacar e della Liegi-Bastogliegi con Roglic. Sagan invece in Abruzzo rompe un digiuno che durava da 461 giorni. Lo slovacco non vinceva dal 10 luglio 2019, giorno in cui si impose nella frazione di Colmar al Tour de France. Un digiuno davvero molto lungo per un corridore che in carriera può vantare tre titoli mondiali consecutivi. Dal 2015 al 2017 un giro delle Fiandre e una Paris-Giroubaix. Astinenza rotta proprio nella sua prima partecipazione alla Corsa Rosa, sempre più anomala, ma che ha visto di nuovo l'Abruzzo infiammarsi per il mondo della bicicletta. Grazie a tutti.